Agustinetti, un bel 2-2 dal punto di vista dello spettacolo tra Grosseto e Sassuolo, il rammarico però c'è perché 2-0 all'undicesimo minuto potrebbe essere una ghiotta opportunità per il suo grosseto. Sì, sì, in dubbio, anche se sapevamo che avevamo un po' di difficoltà oggi che poi ci sono evidenziate, man mano loro hanno preso il possesso del campo. Per questo che avevo chiesto ai ragazzi di continuare a spingere per cercare di fare il terzo gol, cosa che hanno fatto. Oggi avevamo parecchi ragazzi menomati, lo si è visti, avete visto anche alcuni incerotati, altri che hanno giocato buttando il cuore oltre l'ostacolo, però tante volte poi questo non basta. Di fronte c'è una grande squadra e di conseguenza è riuscita a ribattare il risultato. E niente, comunque penso che i ragazzi abbiano dato tutto, sono usciti estremati tutti e hanno dato quello che potevano dare e abbiamo cercato anche di cambiare l'atteggiamento tattico, inserendo anche Papini che sapete che non stava bene. Purtroppo magari abbiamo anche peggiorato le cose, però oggi era importante fare il risultato, muovere la classifica contro questa grande squadra, la quale abbiamo preso 4 punti, non dimentichiamocela. Però è anche altrettanto vero che questo campionato è difficile, lo si vede. Noi adesso siamo bravi che stiamo riuscendo anche a mascherare un pochino una lacuna che non ci fa lavorare bene, che è quella che ci potrebbe portare a avere una condizione sia fisica che mentale, soprattutto per avere più padronanza di noi stessi. Però che dobbiamo dire? Dobbiamo dire che abbiamo per l'ennesima volta oggi comunque ammirato un giocatore che, sapete, si allena anche poco, ma che fa delle cose in questo momento per noi molto importanti. Dobbiamo anche dirgli un grazie perché sinceramente ci permette in questo momento qui, col suo modo di fare, col suo modo di lavorare, con la sua grinta, la sua decisione. Poi oggi abbiamo riassemblato anche una difesa quasi completamente nuova che si è comportata anche bene perché c'è sui due gol, non è che c'è stata anche la bravura dell'avversario naturalmente. Però è chiaro, dobbiamo fare risultati, che questa è una cosa importante, muovere la classifica in attesa poi di recuperare pienamente tutti e avere a disposizione. Oggi poi, tra ieri sera e oggi, Joelson purtroppo ha avuto un virus intestinale con disenteria che non ci ha permesso neanche di poter avere anche alternative diverse. L'Alessandro aveva speso tanto nella partita giocata qui con noi e con la VAR, perché non dimentichiamoci che abbiamo giocato lunedì sera poi noi. Alcuni hanno giocato in maniera a quale bisogna fare un plauso, tipo Job, tipo Melucci, che non stavano bene, Carobio stesso, e visto che sono tutti i mezzi cerottati. Adesso purtroppo dobbiamo giocare una partita ancora ravvicinata. Non è molto confortante, però avete visto che anche se giocavamo contro la seconda in classifica siamo riusciti ugualmente a fare la nostra onesta e discreta figura. Poi è chiaro che se sei al top della condizione, al top dell'organico, magari riesci a metterli in difficoltà ancora un pochino di più. Però c'è da dire anche una cosa, che capitano momenti dove ci sono squalifiche, dove ci sono infortuni e bisogna essere bravi a gestire questi momenti. Non dimentichiamoci che abbiamo vinto a Brescia, abbiamo pareggiato col Mantova, sapete quante difficoltà abbiamo avuto anche oggi contro una grande squadra che aveva recuperato condizioni fisiche e mentale. Dopo un periodo anche loro, perché avere un sassuolo che fa quattro sconfitte di fila diventa impegnativo. Avete visto il Mantova che ugualmente oggi ha vinto. Cioè è un campionato molto difficile, molto impegnativo. Noi siamo lì, siamo lì, ciao. Abbiamo comunque una classifica che ci permette di vivere questo momento qua, anche se vorremmo sempre vincere. Questo penso sia la cosa più bella, questa voglia che abbiamo di fare. Però non dimentichiamoci, Walter, come è successo anche l'anno scorso, ha levato due palloni dal set, che magari andiamo su 3-0 e la partita si mette in una maniera diversa. Però bisogna riconoscere che loro erano molto bravi, ci hanno creduto fino alla fine, hanno un modo di giocare e di interpretare con queste punte molto veloci, molto scattanti, che ti possono impensierire, possono inserirti i salventi e hanno Fusani a termini di stacchina Carla. Di conseguenza, vedete che organico hanno, penso che anche con quel pizzico di fortuna magari saremmo riuscito a fare anche una gara diversa, perché poi abbiamo preso gol proprio nel momento nel quale così si entri sul terreno di gioco e la partita ti sembra una montagna difficilissima da scalare. Però, come dicevo prima, oggi siamo riusciti e siamo stati anche bravi a mascherare i nostri limiti e, come posso dire, di alcuni ragazzi, anche che ho dovuto scherare perché non ne avevamo più dagli altri, che hanno stretto i detti e hanno fatto ugualmente a pieno il loro dovere. Nell'immediato futuro, mister, sarà importante andare a recuperare anche il famigerato fattore Z, questo Zecchini che ultimamente non ha portato moltissimi punti. Ma sì, ma ultimamente noi stiamo giocando in maniera leggermente diversa. Da quando abbiamo iniziato a giocare con le due punte, con Esposito, per necessità di cose, dobbiamo giocare leggermente in modo diverso, perché sennò saremmo troppo sbilanciati. Giocare con due punte di ruolo proprio in questa maniera qui, chiedere alla squadra poi di avere un gioco particolarmente collettivo e molto dispendioso e poi ne vai a subire anche le conseguenze. Siamo bravi ugualmente a avere, come dicevo prima, a aver dato spazio a loro perché hanno fatto anche delle ottime azioni e ottime triangolazioni. Però quando callano di intensità, naturalmente, non puoi fare sempre sistematicamente due cambi in certe posizioni del campo. Perciò bisogna avere anche la giusta. Prima giocavamo in maniera completamente diversa. Avevamo una punta che si muoveva tantissimo come Joelson, un trequartista ridosso dalle punte come Gigi. Gli esterni, in una certa maniera, avevamo un modo di giocare diverso. Però adesso abbiamo fatto un giocatore che ha fatto 22 gol, giocando in questa maniera. Perciò c'è sempre il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, ma c'è anche da dire che oggi penso che se a inizio partita ci avessero detto che la partita finisce 2-2 in modo abbastanza spettacolare come possa essersi conclusa perché poi abbiamo visto che loro sono una bella squadra. Questo è fuori di dubbio. Come dicevo prima, avere preso sei punti a Brescia e quattro vuol dire che i ragazzi sono stati bravi in alcuni momenti. Questo è un momento, come dicevo prima, dove non dobbiamo essere bravi a farlo passare in modo indolore perché fare ugualmente risultato e non stando bene e avendo tutti questi problemi qua è sintomo che il lavoro fatto da tutti i ragazzi, ve lo dicevo ieri nella conferenza stampa, è stato fortemente partecipativo perché non è facile che recuperi i due giocatori all'ultimo istante come abbiamo fatto. Sapete anche Vittiello quanta fatica sta facendo in questo momento qui, in modo coraggioso, ritrovare la condizione atletica perché ha preso una frattura al setto nasale scomposto e non è una cosa facile. Carobbio c'è questo dolore al ginocchio, in alcuni ruoli purtroppo le squalifiche ci hanno un pochino penalizzato, però Amora e Conterri entreranno. Purtroppo non abbiamo Freddy che stava facendo un ottimo campionato, però è chiaro che adesso in questo momento qua dobbiamo vendere cara la pelle e stiamo cercando di farlo. Devono pazientare un attimo i nostri tifosi perché purtroppo in quel momento è un po' così. È chiaro che ritrovare, se vinciamo fuori casa e parliggiamo in casa, devono, anche se noi vorremmo dedicargli sempre delle vittorie, però tante volte bisogna riconoscere che gli avversari sono bravi. Questo è un momento topico dell'annata, mancano 12 partite e noi abbiamo speso tanto perché per recuperare posizioni in classifica come abbiamo dovuto fare abbiamo speso tante energie fisiche e mentali e adesso dobbiamo essere bravi a stare tutti uniti, tutti insieme a capire che qualche ragazzo può fare qualche sbaglio ma non cominciare a fischiarlo perché se no diventa impegnativo poterli recuperare perché abbiamo un po' di problemi.